A Corbetta gli studenti dai 15 ai 19 anni e tutto il personale scolastico possono avvalersi da oggi del servizio di tamponi rapidi drive-in disponibile presso le due farmacie comunali della città grazie anche al sostegno della sezione locale della Croce Rossa. Oggi presso le farmacie comunali di Corbetta è partito il servizio di tamponi rapidi per il personale scolastico e gli studenti delle scuole superiori gratuitamente grazie al sistema sanitario regionale e il servizio di tamponi rapidi aperto a tutti i cittadini previa prenotazione. Ecco la particolarità perché per mantenere la sicurezza nella farmacia 2 dove c'è anche il farmadrive i tamponi verranno fatti in modalità drive-in quindi senza scendere dalla macchina mentre nella farmacia 1 saranno fatti in un locale dedicato completamente ai tamponi per la piena sicurezza del personale di chi viene a fare il test e dei cittadini e dei clienti che frequentano le farmacie quindi in locali ad hoc. Questo è un servizio importante perché siamo in una fase delicata in cui i contagi stanno riprendendo noi vogliamo al più presto immediatamente fare un check dei nostri cittadini e dare la possibilità ai cittadini che hanno i sintomi o che hanno necessità di fare un tampone rapido immediato e subito.